È un progetto che è partito l'anno scorso e che vogliamo proseguare nei prossimi anni perché si tratta proprio di un processo di rigenerazione sociale e culturale del borgo e quindi nasce nella comunità di Castelli. Quest'anno partiamo il 31 luglio con delle residenze artistiche, quindi avremo Davide Rasetti, giovanissimo terramano, musicista, compositore e polistrumentista che porterà un lavoro per la creazione di un soundscape che poi potrà essere utilizzato anche per l'avvenire, per vivere Castelli, per vivere questo borgo. Con Arti e Spettacolo, che invece è una realtà consolidata aquilana, che già l'anno scorso ha dato prova di aver giustamente interpretato quello che è il sapore di questo progetto, cioè ovvero quello proprio di interpretare la memoria di Castelli affinché non vada persa e affinché possa avere un sapore più attuale, più vicino alle nuove generazioni. E poi c'è la proiezione del cortometraggio Ratafia che è stato registrato durante la residenza artistica dell'anno scorso ed è stato poi elaborato durante tutto l'anno e anche lì è una nuova interpretazione di questa storia che è ormai un binomio imprescindibile di questo borgo, quindi la storia della ceramica e tutte le fasi della produzione reinterpretate attraverso corpi, suoni e parole. Questo progetto poi naturalmente continuerà a settembre, quindi ci saranno i laboratori urbani di comunità che vengono aperti, inaugurati, aprirà i lavori Lucio Argano, uno dei più grandi esponenti della progettazione culturale delle città italiane. E poi proseguirà contestualmente, ci sarà una raccolta fondi proprio perché ci apriamo già il 2023. Quindi sono tante iniziative che vogliono in qualche modo coinvolgere le comunità del territorio, le varie comunità del territorio, ma anche andando in maniera più allargata su tutta la regione perché pensiamo che Castelli sia un simbolo per l'intero territorio abruzzese e non solo. Sappiamo quali sono stati i suoi fasti e vorremmo quindi proiettarci verso il futuro con una rigenerata immagine del borgo. Grazie. 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 Grazie.